Usuari di 24Hora.com Ah, è il nostro vicendario di San Barbola Questa è esatto San Barbola Gesù Dicono Per sopra gli abitanti c'è una preoccupazione Sommamente grande C'è un matto di qui Con praticamente Drumi Fuori In una cultura Oltre a passare C'è una maniobra con l'auto E' un matto di qui Non riasca l'auto Non riasca l'auto E' un'altra banda Poco di giorni passato Abbiamo due auto Con due fili Amici con un'altra Per motivo di Mantenzione anche Di matto di qui Non solo sei Sì Sì Ma è una banda di Caminda E' un'altra banda di Caminda E' un'altra banda di Caminda E' un'altra banda di Caminda Un'altra banda di Caminda Non c'è più Per andare a andare a Caminda Per andare a Caminda Per andare a San Barbola Gesù E' un'altra banda di Caminda 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 Per favore, passa, mi ti volvi ripetire adres, per voi non l'obbeda. San Barbola Gesù. E se in caso, Dewey non può, mette i ragazzi un'iamata, non per voi essere l'inspector, per favore, ben agirana, ben observa. Per sobra, un'altra banda, non è tirando sushi. Quindi, senza l'obbeda, c'è un canale, non è un'ora, che ha un'iobe, non c'è un problema. E se a me sta facendo un'supplica, non è un'instanza, non con sardini, Dewey, per voi essere l'inspector, che può aiutare i abitanti di San Barbola Gesù, per favore, grazie a tutti. Per sobra, evitare un'allocchia, per sobra, nel finale, di buona del mes, devo essere l'intenzione, e se a me sta facendo un'opportunità, per fare un'allocchia più grande bene. Mi nome è Leo Germano, mi chiede di San Barbola Gesù, e noi sta per me, di notizia. grazie a tutti. Grazie a tutti